Diciamo che è un evento importante, straordinario, perché lo scheletro di questo Capodoglio in primis ci fa capire quanto sia importante l'educazione ambientale, in primis per i giovani e insegnare loro per un proseguo nel futuro a interagire con l'ambiente in maniera un po' educata. Per quanto riguarda la Maddalena, diciamo che oltre alla bagnazione questa potrebbe essere un'occasione per l'offerta turistica per migliaia di visitatori che verranno qui alla Maddalena, potranno anche loro capire l'importanza dello spiaggiamento di questo Capodoglio.